Rilanciare il centro di Montesilvano in sinergia con le associazioni culturali e sportive del territorio partendo dal lavoro del comprensivo delfico insieme alle associazioni spazio comune, spazio libero, bibliodrammatica e alla parrocchia di Sant'Antonio. È l'obiettivo della rassegna Sorrisi in Città, Cultura e Comunità in Cammino che sino alla fine di giugno propone un ricco calendario focalizzato su quattro fine settimana dedicati a poesia, sport, artigianato e volontariato. Ma grande spazio viene dato anche alla musica attraverso i saggi di fine anno dei ragazzi del Delfico tra musical e quadri animati oltre alla fotografia come memoria storica della città grazie al contributo della FIAF. Altro filo conduttore è la promozione della lettura grazie alle associazioni nati per leggere e on the road oltre ai match con gli scrittori locali promossi da officina letteraria del docente scrittore Marcello Nicodemo. Il 13 giugno celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova patrono di Montesilvano insieme a San Michele Arcangelo arti performative e danza con bibliodrammatica di Beniamino Cardines con lo spettacolo itinerante Biblioteca Umana con gli uomini in libro che interagiscono con il pubblico ispirandosi a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury animazione con trampolieri per le vie della città, sfilate ed esibizione di cori folcloristici sino ai mercatini dedicati all'artigianato e alle tradizioni nell'ultimo weekend di Sorrisi in Città. Evento di chiusura con il videomapping sulla facciata della chiesa di Sant'Antonio. Il ricco calendario è reso possibile dallo sforzo volontario di molte associazioni come l'Università della Terza Età e mi ricreo al fine di sensibilizzare le istituzioni ad un rilancio del centro di Montesilvano spesso trascurato nei calendari ufficiali degli eventi come hanno sottolineato gli organizzatori presentando l'iniziativa.